Un altro incontro tra le parti sociali Filcams CGL, Fisa, Scat, Cisle e Wiltux provinciali e regionali e le aziende Margherita Distribuzione, ex Ocean, cedente e venditrice dopo le fumate nere dei giorni scorsi. Margherita Distribuzione propone sostanzialmente la riconferma di soltanto 104 lavoratori su un organico di 138 di cui 6 hanno già accettato l'esodo volontario e incentivato. Una trentina quindi quelli che dovrebbero rimanere in campo a Margherita Distribuzione in attesa di una ricollocazione sulle superfici dismesse dell'ipermercato Ocean ma che non convincono i sindacati. Non possono esserci lavoratori di serie A e di serie B, dice il segretario generale della Filcams Alessandro Vasquez. Vogliamo che tutti i lavoratori traghettino con la nuova società per poi ridiscutere semmai della loro ricollocazione dato il ridimensionamento delle superfici dedicate all'ipermercato. Al momento non vi sono notizie certe sul quale Player investirà e occuperà le superfici dismesse e quello che l'azienda potrebbe compiere a un salto al buio sulle spalle dei lavoratori e delle lavoratrici. Esiste il diritto che non si può negare, dice ancora Vasquez, di appartenere unicamente ad un ramo d'aziende e pertanto esortiamo Cospea a garantire tutti i livelli occupazionali alle sue dipendenze. Previsto un altro incontro nella speranza che le parti trovino l'accordo. Grazie. 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 Grazie.